Mosca è invaso all'alba all'Ucraina. Putin, per chi interferisce, conseguenze mai viste. Biden sarà catastrofe. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Von der Leyen morte persone innocenti. Dall'Unione Europea condanna unanime. Si preparano subito nuove sanzioni. Mario Draghi da Putin, atto ingiustificato e ingiustificabile. Questa, in sintesi, la situazione che sta tenendo il mondo col fiato sospeso, anche tra gli abruzzesi, naturalmente, regna la preoccupazione. Di cosa ha paura in particolare? Che rimaniamo senza niente. Petroglio, gas, mangiare, tutte queste cose. Fino a quando non ci tocca personalmente, no, però sì. È una dittatura non accettabile, quella rossa, chiaramente. Lei ha paura di ripercussioni per noi? È ripercussione economica, sì, abbastanza. E di una possibile guerra globale? Ma non credo, perché l'Europa si è mostrata un po', diciamo, un po' fredda. Con sanzioni economiche, sì, però con forza militare zero. Non so, c'ho sempre un senso di paura, ecco. Quando sento la guerra, poi mio figlio fa pure il militare, quindi ancora di più. Eh, preoccupata sì, perché c'è un figlio che sta a Londra, sta qua. Lei ha paura di cose in particolare? Eh, c'è paura di tutto. Perché abbiamo ripercussioni anche in Europa. Ripercussioni economiche in particolare? Sì, economiche, le morti, tutto. Lei pensa anche una guerra globale? Eh, potrebbe essere, sperando di no. E già c'è il Covid che ci porta a negatività in tutti i campi. Scoppia pure la guerra, ci abbiamo chiuso proprio. Sicuramente come tutte le altre cose ci sta preoccupando anche questa cosa. Cosa la preoccupa di più? Ma è proprio la situazione che tra Russia e l'altro paese, l'America, si stanno contendendo questa situazione che comunque di ricasco sempre per noi. Alla fine le conseguenze le stiamo pagando tutti i paesi europei che sono coinvolti proprio in questo. Questa guerra per che cosa? Perché l'ONU interviene, l'Europa non si sa che succederà, quindi la preoccupazione c'è comunque. Lei ha paura anche di ripercussioni per noi? Sull'economia sicuramente, sulla nostra vita non credo, speriamo di no. È un gioco di potere, non vuole avere la Nato alfa frontiera, tutto qua. Io preoccupo che alzeranno i prezzi del gas, quello sicuramente, dato che ce l'hanno i russi. Gli americani, questo gioco qua, quando hanno messo le basi a Cuba, hanno fatto un casino per far togliere le basi russi da là. Perciò adesso è viceversa, tutto qua. Sì, diciamo che io non vedo proprio la televisione per non essere bombardata da tutte queste cattive notizie, perché proprio ci finiscono a demoralizzare. Che cosa la preoccupa di più? Le vite umane che ci va di mezzo per un potere che non comprende, che non capisco di fronte a tanti giovani, a quello che è pure l'economia, sia per loro sia da parte nostra. È una catastrofe, direi una catastrofe che nel 2020 si debba fare ancora la guerra. Per me è un'infamia, non mi voglio esprimere con altre parole, però lo trovo devastante. Grazie.